Borsa Milano soffre rafforzamento euro e peggioramento banche, ma le automotive. Sul finire della mattinata della prima seduta dell'anno piazza affari ampli alle perdite, sulla scia del peggioramento del comparto bancario risentendo, come del resto le altre borse europee e continentali, del rafforzamento dell'euro. A questo si aggiunge il ribasso del comparto automotive, debole già fin dalle prime battute. Intorno alle 11,30 l'indice FTS e MIB cede lo 0,75%, mentre l'allusciare scende dello 0,71%. Volumi per un controvalore di circa 700 milioni. In Germania il DAX perde lo 0,83%, mentre in Francia il K40 lascia sul terreno lo 0,78%. Il comparto bancario è passato in negativo e cede lo 0,35%. Unicredit poco sopra la parità mentre gli altri istituti dell'indice principale sono negativi. Tra i titoli più piccoli, Carige sale dell'1,2%, mentre Creval perde il 2,7% in attesa dell'aumento di capitale. Debole tutto è le automotive. Fiat Chrysler lascia sul terreno il 2,6%, CNH Industrial l'1,6%, Brembo il 3,3%, Ferrari il 2,2%. In Europa il settore è tra i peggiori, con un calo dell'1,7%. Ieri i dati sulle immatricolazioni in Francia hanno mostrato un calo dello 0,51% a dicembre. Un trader ha inoltre segnalato in discrezioni del Daily Telegraph, secondo il quale i dati delle immatricolazioni britanniche dovrebbero mostrare un calo del 5%, il dato sarà pubblicato venerdì. Saipem avanza dell'1,4%, in un settore energetico che galleggia poco sopra la parità. Mondadori ha indeciso rialzo, più 3,5%. Secondo MF, la società in Francia punta a un'integrazione a tre con la Gardere e Marie Claire, con la costituzione di una neocodoc alla quale sarebbero conferiti gli asset dei tre gruppi coinvolti. Dopo gli iniziali rialzi sulla scia dei decreti che hanno stabilito e l'aumento delle tariffe autostradali per il 2018, Atlantia cede lo 0,34%, mentre Sias avanza dello 0,45%. Autostrade meridionali avanza dell'1,66%.